mister come sempre in queste occasioni si va oltre la partita e ti chiedo un feedback il primo feedback dopo poco meno di una settimana di lavoro e anche la gara di oggi che tipo di indicazione ti ha dato da un punto di vista tattico visto che c'è stato un allenamento però con un'opposizione sì il feedback è sicuramente importante abbiamo approcciato questa partita con la giusta mentalità abbiamo cercato di far gol e tutti i gol sono arrivati mediante delle situazioni palla a terra create con il movimento insomma sono contento la squadra mi è piaciuta ma mi è piaciuta in tutta questa prima settimana come ho già detto la squadra ha una mentalità importante ho chiesto a loro di mantenerla e di alzare un po i ritmi e già lo stanno facendo quindi bene così ecco allora il primo tempo veramente importante sotto l'aspetto alla profondità c'è questa ricerca in presentazione avevi detto la ricerca di profondità di attacco rapidità palla a terra l'abbiamo visto molto nel primo tempo un po meno all'inizio della della ripresa poi la qualità della ripresa è venuta fuori con ovviamente l'individualità c'è anche la volontà di una ricerca diversa di gioco oppure la richiesta era quella di mantenere quel tipo di profondità d'attacco come all'inizio della partita sì la profondità importante è chiaro che ci deve essere profondità nel primo tempo l'avversario ce l'ha concessa e siamo stati bravi ad attaccarla spesso con dei tagli dietro la loro linea con dei passaggi filtranti abbiamo fatto delle buone cose considerando che in campo avevamo anche tanti ragazzi storia giovanile che però hanno delle qualità straordinarie mi hanno veramente impressionato e quindi sono delle spugne imparano imparano in fretta anche il secondo tempo loro erano molto bassi quindi c'erano da mantenere un po di più il possesso e di avere un po più di pazienza per scardinare una squadra completamente disposta davanti alla porta e tutta come hai detto bene la qualità e l'esperienza poi è venuta fuori alla lunga abbiamo fatto gol alla rafica mister una nota tattica collegandomi a quello che diceva anche il collega una cosa che mi ha colpito abbastanza più nel primo tempo che nel secondo è come cercavate la verticalizzazione sui terzini sui terzini che giocavano molto in proiezione offensiva nel secondo tempo anche viti anche se il risultato era già ampiamente compromesso si è spostato molto verso verso l'attacco è questo quello che chiedi ai ai tuoi difensori che si gettino molto spesso in avanti sia i terzini che magari anche centrali sì quello che chiedo è il coraggio è normale a questi tipi di partite servono anche per testare quello per cercare di far più gol possibili di creare situazioni e anche di lasciare poi i difensori in uno contro uno per allenarsi un po di più anche il duello e mi è piaciuta questa cosa mi è piaciuta la voglia di essere sempre proiettati e di creare superiorità numerica offensiva senza rimanere bloccati insomma con la testa libera è giusto fare così poi ci sono partite partite la strategia avrà sicuramente la sua valenza però in questo momento voglio che la mia squadra sia propositiva aggressiva e sicuramente organizzata in entrambe le fasi volevo un parere sui nuovi arrivati quindi a che punto sono come le ha viste in campo oggi soprattutto ma anche in settimana bene sono presentati in condizioni fisiche discrete che devono diventare ottime per il campionato quindi stanno lavorando duramente normale che i carichi sono molto alti e per caratteristiche non tutti i giocatori sono uguali quindi bisogna dare sicuramente tempo a giocatori come destro satriano marin che oggi per una botta niente di grave non è stato della partita però stanno lavorando duramente ma a livello tecnico li ho visti inseriti già bene non ho avuto nessun tipo di avvisaglia diversa dal punto di vista fisico semplicemente dobbiamo lavorare tanto due cose prima sulla formazione mi sembra che ad oggi tu abbia le idee chiare tra chi è tra virgolette titolare e chi e chi non lo è in genere si tende a mescolare un po le carte in queste in queste partite tu invece avuto le idee molto molto nette secondo me e la seconda è sul calendario perché a oggi manca un mese all'inizio della della stagione un'estate molto strana è vero malcomune mezzo gaudio però ti preoccupa un po che è soltanto un mese per lavorare per l'inizio della stagione ovviamente poi c'è un proseguo no non mi preoccupa perché stiamo lavorando bene duramente quello che è importante che i ragazzi finiscano bene la preparazione che non ci siano degli stop lunghi perché poi vanno a condizionare la prima parte del del campionato quindi questo è sicuramente importante quindi la la gestione deve essere fatta in maniera intelligente e per quello che riguarda la formazione è normale che ho le idee chiare ma ho molti titolari non sono solamente quelli che erano il secondo tempo ma nel primo tempo ce ne sono molti che possono giocare titolari e la ricerca è assolutamente questa perché il campionato è lungo si giocherà partite ravvicinate e io spesso ho cambiato formazione perché voglio mantenere alto a livello di competizione degli innocenze cong sono due giocatori che nel primo tempo hanno fatto veramente nei ruoli uno per la profondità che riusciva a trovare sempre a dettare il passaggio davanti un po come quello che dice che hai detto in presentazione no questa ricerca della profondità palla a terra e questo ragazzo è un ragazzo che veramente davanti ha fatto in continuazione ha cercato la porta e ha cercato il passaggio e lui invece l'altro nel mezzo al campo in un ruolo determinante come è stato di aslani come stato per ricci ci sono due ragazzi più aggiungo fazzini che anche anche lui è un ragazzo di livello altissimo sono dei giocatori che hanno nelle loro caratteristiche i crismi per per fare una grandissima carriera normale che in mezzo ci passa ci passano gli allenatori quindi io devo sicuramente farli crescere devo farli maturare devo insegnarli dei movimenti e soprattutto dei tempi di gioco a livello invece individuale sono dei giocatori hanno fatto vedere anche oggi che ci stanno alla stragrande in una squadra di serie a